Questa è un'altra sfida che vogliamo vincere, nell'immaginario c'è sempre stata una Napoli senza bici, invece questa è un'altra sfida importante, Napoli con la pista ciclabile più grande del Mezzogiorno e una delle più importanti d'Italia, 20 km che attraversano una città piena di vicoli, strade e piazze e io sono convinto che i napoletani accoglieranno con entusiasmo anche questa sfida per una città più sostenibile in cui si può circolare meglio, con meno inquinamento, con più allegria perché andare in bici è un bel momento anche per stare insieme, in famiglia, tra gli amici e tra l'altro i lavori termineranno in appena sei mesi quindi abbiamo l'obiettivo a portata di mano. Vedo una convergenza di sguardi amichevoli, per carità, quelli non amichevoli stanno andando. La pista ciclabile e l'uso della bicicletta naturalmente a Napoli non può che essere integrato con le altre modalità di trasporto, in particolare le funicolari e la linea 1 e la linea 6, cioè le metropolitane. Non solo perché c'è la possibilità di trasportare in modo gratuito le biciclette ma anche perché il progetto tiene conto e si avvicina a queste infrastrutture consentendo quindi di superare là dove ci sono dislivelli o tratti anche troppo lunghi con cui integrare l'uso della bicicletta. Quindi una pista ciclabile che non solo corre lungo il mare e la costa con uno straordinario paesaggio ma anche che consente di andare verso zone interne utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Naturalmente è una pista ciclabile che arriva anche nel centro antico, nella nuova ZTL e quindi usa anche le strade liberate, le strade normali, ormai a traffico ridotto, sul quale sarà ben più facile camminare anche con la bicicletta.